Ma non ci credo! Sai chi è di fianco a me? Pubblico a casa e giornalista di Antonio? Da Dio! Ma è veramente da Dio! Lui che... no, dimmi che compito farai questa sera? Questa sera sono presidente di giuria, quindi insomma valuterò un po' tutte le concorrenti in gara e vedremo un po' di dare il titolo a chi lo merita. Bravo! Lui è competente, è una persona che porta la voce al mondo. Grazie per essere qui con noi al Miss X Italia. Grazie a voi e quando è un'iniziativa organizzata da Stefania ci sono sempre. Grazie Antonio, sei veramente da Dio! Ti do un bacino!